Buongiorno, sono Walter Borgonovo e sono il titolare dell'azienda Borgonovo 1930 che si occupa di arredamento di interni. Borgonovo 1930 nasce come piccola bottega artigiana in Brianza, Mariano Comense per l'esattezza e da lì si evolve sempre nel discorso produzione artigianale. Negli anni 80 mio padre affianca questa attività artigianale, l'attività di commercio che viene poi sviluppata da me negli anni 90 e a seguire e adesso è diventata l'attività prevalente.